Cosa si aspetta lì a Ostia nelle prossime ore? Di fatto il municipio è stato commissariato al posto di Andrea Tassone. Io e il Presidente Tassone abbiamo fatto insieme una conferenza stampa in cui il Presidente si è dimesso e ha formalizzato questo mattino le sue dimissioni. La legge prevede che ha 20 giorni per ritirare le dimissioni. Lo ha fatto con una denuncia che abbiamo voluto fare insieme, cioè che Ostia non è un municipio qualunque, è il municipio in cui la presenza della mafia è più pervasiva, è più radicale, più radicata, e quindi non può essere trattato come è stato in questi mesi, come fosse un municipio normale. E Marino ha subito recepito nominando Sabella come commissario al litorale, non come commissario al municipio. E poi il Presidente Tassone ha chiesto una rotazione radicale di tutti gli uffici. Il Presidente Tassone è disponibile ad andare avanti, naturalmente facendo una giunta nuova, prevalentemente o completamente composta da persone che vengono da fuori. Cioè noi abbiamo chiesto una sorta di servizio civile, come lo sto facendo io, cioè di mettersi dirigenti nazionali che per un periodo limitato evidentemente si mettono a disposizione di un partito in difficoltà.